Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telecosta Smeralda. Il nostro magazine questa sera si apre proprio con la notizia della candidatura di Cagliari come capitale europea per il verde per il 2025, un progetto ambizioso ma in linea con le strategie di sostenibilità che negli ultimi anni l'amministrazione comunale di Cagliari sta portando avanti. Vediamo di che si tratta. Scaramanzia a parte, secondo Posto Europeo è un sigillo importante, certo, ma perché non pensare al primo? E allora, ecco, che la bellezza, la capacità attrattiva, i turisti ne siano qualcosa, la città è già invasa, da francesi, tedeschi, spagnoli, di un capoluogo all'altezza di altre città del mondo, da un punto di vista sostenibile e verde, già verde, green. E allora ecco che la partita si fa interessante, molto interessante, con la candidatura capitale verde, appunto, per il 2025. Siamo candidati adesso per la fase finale, l'anno scorso siamo arrivati secondi in Europa, è un ottimo risultato, però naturalmente arrivare così a un passo alla vittoria e non vince, insomma, ci ha ciato molto da pensare, perché adesso ci riproviamo con più sforzo. Cagliari è sempre più bella però, al di là di un riconoscimento che sarebbe sicuramente la ciliegina sulla torta. Beh, è una certificazione, quindi capitale verde vuol dire un'analisi scientifica che fa la Commissione Europea sul verde, sull'acqua, sui rifiuti, sui trasporti, sulla mobilità sostenibile e il fatto che ci abbiano considerato secondi in Europa, dopo Valencia, vuol dire che tutto sommato noi siamo molto criticoni per noi stessi, ma alla fine le cose evidentemente funzionano. Un gioco di squadra, quest'ultimo, il supporto e il coordinamento della città metropolitana per portare a casa la leadership, anche perché il sontuoso riconoscimento istituito dalla Commissione Europea nell'ambito della European Green Capital Award, premie certifica le città europee, verdi, con oltre 100.000 abitanti che possono essere prese come esempio, modello e archetipo per le proprie soluzioni innovative e sostenibili. Cagliari consente di ospitare tante persone, perché comunque ha delle bellezze naturali, dal poetto agli 11 parchi, al fatto di essere comunque un passo dalle bellezze anche del resto della Sarlene, perché siamo la porta della Sarlene. Dalle parole ai fatti, insomma, con una consultazione pubblica per far quadrato su idee, progetti e programmi in corso nel territorio metropolitano inerenti ai temi sulla sostenibilità e ambiente. Non solo, a queste si potranno aggiungere anche azioni avviate in fase di attuazione da realizzare in un futuro. E allora, scaramanzia a parte, quel primo posto, il podio più alto d'Europa potrebbe essere davvero a un passo. E a proposito di podio, insomma, sia a Cagliari che a Sardegna si confermano tra le mette, le destinazioni turistiche preferite naturalmente per quest'estate, anche se qualche segnale si intravede già per la Pasqua. Vediamo. I turistici sono e arriveranno in Sardegna, ma non a Pasqua, dove invece le festività saranno caratterizzate soprattutto dal turismo di prossimità. Da sardi che si spostano nella regione affollando le strutture extra alberghiere sold out da settimane e le aziende agrituristiche al top delle preferenze, per quanti non vogliono rinunciare alla più classica delle gite fuori porta. Continua la ripresa e la crescita del turismo per Pasqua, si contano circa 7 milioni di presenze in Italia per il turismo incoming, con un trend che va dal 7 all'8% di crescita. In Sardegna abbiamo due livelli di misurazione, uno è quello di conferma di una stagione in crescita, quindi un'altra stagione record per il turismo in Sardegna. Per Pasqua siamo ancora un po' a rilento, un po' perché non abbiamo ancora il piano voli estivo confermato, soprattutto per l'estero, ma in ogni caso si registrano ottime prospettive per quanto riguarda il turismo interno e di prossimità. Quindi la gita fuori porta, il weekend di Pasqua e Pasquetta riempiranno sicuramente i bed and breakfast, gli agriturismo dei nostri centri più interni, mentre purtroppo gli alberghi delle coste, quelli più grossi, sono ancora chiusi. L'assalto di Pasqua così è solo rinviato, le prenotazioni ci sono, gli arrivi crescono, ma mancano i posti letto. Tante strutture ricettive infatti rimarranno chiuse, spingendo i turisti verso soluzioni alternative. I grossi alberghi non aprono, quindi abbiamo circa un 25% degli alberghi, ad esempio del sud Sardegna, che sono aperti. Se noi facciamo la proporzione rispetto ai posti letto, la percentuale è ancora più bassa. Nonostante ciò la Sardegna rimane una meta turistica europea che spicca tra i luoghi preferiti per trascorrere le vacanze, anche a Pasqua. Peccato però per i voli. La summer season è apera iniziate e mancano all'appello tante destinazioni oltre confine. Il turista italiano si sposta per Pasqua, però il 50% dei turisti italiani decidono di fare la Pasqua e la Pasquetta nella propria regione. Quindi questo chiaramente determina una forte incidenza del turismo sul turismo estero. Quindi noi non abbiamo ancora un piano voli dall'Europa che ci consenta di ragionare in termini di ottimi risultati. Possiamo però registrare, ad esempio, dei motori di ricerca. Jet Coast, che è uno dei motori di ricerca più importanti per quanto riguarda i voli hotel, la Sardegna rimane una delle destinazioni d'Europa più desiderate. Al nono posto per i francesi, al decimo posto per gli spagnoli e all'undicesimo posto per i portoghesi. Quindi abbiamo la Sardegna sempre nel desiderio di vacanza dei turisti europei, che però si deve materializzare quando i collegamenti sono operativi. E c'è un altro sito, è quello della miniera dell'argentiera nel Sassarese, che siamo certi richiamerà tantissimi turisti. Qui c'è stato un importante progetto di riqualificazione che gli ha valso proprio un premio in denaro della Fondazione Italia. Quando l'arte, le archeologie industriali e la bellezza ambientale determinano un successo, e allora ecco il progetto Mar Miniera Argentiera, strutturato nell'ex borgo minerario agonizzante del nord Sardegna. Varcare la soglia della classifica dei 5 vincitori del bando 2023 della Fondazione Italia Patria della Bellezza. Il successo è firmato dall'associazione culturale Landworks, che si è aggiudicato un premio di 20 mila euro per finanziare iniziative di comunicazione. L'argentiera è uno dei maggiori siti di archeologia industriale della Sardegna, uno straordinario villaggio fantasma affacciato su uno spicchio di mare cristallino, dove le antiche strutture un tempo utilizzate da minatori nelle attività di estrazione di piombo, argentifero e zinco. In gran parte abbandonate si alternano a piccole abitazioni recuperate, diventate paradiso di chi in Sardegna fugge dal turismo di massa. In questa borgata del Sassarese una parte delle strutture industriali, come la laveria, sono state ristrutturate dall'amministrazione comunale e restituite alla fruizione. Il suo alizio ha quindi deciso di sviluppare in questa oasi unica nel suo genere il suo progetto di rigenerazione territoriale e culturale, scelto e premiato dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza. Marminiera Argentiera ha così vinto contro il degrado trasformando il sito in un museo a cielo aperto, dove artisti di diverse discipline hanno lasciato il loro segno, attirando visitatori nel sito di minatori attraverso la creazione di eventi culturali. Il progetto sempre aperto vive grazie all'azione coordinata e concreta di numerosi partner che promuovono nuove forme di fruizione e narrazione con nuove innovative modalità di produzione artistiche tra diversi settori culturali e creativi in un clima multidisciplinare e internazionale. Tutto questo in un tratto di costa aspra ma incantevole, dove la bellezza e la durezza del paesaggio lasciano amaliati e visitatori tra passato e presente e sicuramente un futuro roseo. E rimaniamo nel nord Sardegna perché Sassari si prepara ad ospitare negli spazi della promocamera la quinta edizione di promo autunno. Lo farà ad ottobre, si tratterà di tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio, dall'agroalimentare alla moda. Ritorna promo autunno ed è subito il trionfo delle eccellenze del territorio che dal 13 al 15 ottobre prossimi avranno una vetrina di tre giorni alla promocamera di Sassari per rilanciare il tessuto produttivo del nord Sardegna. Dopo tre anni di stop per la pandemia il mondo imprenditoriale ritrova così la fiera di settore che spazia dall'agroalimentare e dall'artigianale, dall'arredo al design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri di bellezza, acconciatori, gioiellerie e fashion, settore auto, energia, tecnologia e tanto altro. I grandi di stop, purtroppo il covid ha bloccato gli eventi e i grandi eventi quindi non abbiamo potuto più fare la fiera che facevamo ogni anno, però quest'anno stiamo ripartendo in maniera più positiva, più organizzati, con un occhio al green e alle aziende a livello internazionale. A sette mesi dall'apertura l'evento ha già oltre 100 postazioni prenotate da imprenditori d'eccellenza di ogni settore, grazie anche al contributo della Camera di Commercio che per ogni espositore eroga un rimborso spese del 40%. Come Presidente ricordo che due anni a questi giorni lo stavamo consegnando all'ATS come hub vaccinale per il contrasto alla pandemia. Per fortuna ritorniamo quest'oggi con rinnovato entusiasmo e con spirito di servizio per il territorio, questo va detto, ritorniamo ad utilizzarlo come fiera. L'ente camerale ha messo a disposizione anche per il 2023 il Fondo Fiere che è un fondo che dà come contributo e incontro rimborso alle aziende che partecipano alle fiere e agli exhibitions in promocamera. Quindi c'è anche da parte dell'ente camerale questo bisogno di portare fiducia alle imprese che già operano nel nostro territorio. L'evento si svilupperà su uno spazio totale di circa 8.000 metri quadri, pronto ad accogliere decine di migliaia di visitatori e centinaia di stand di aziende non solo sarde, ma anche campane, romane, toscane e dell'Emilia Romagna, così da offrire alla manifestazione un respiro internazionale. Un programma molto virtuoso che sarà un'ottima vetrina per la città di Sassari, proprio un esempio di resilienza per quanto riguarda le aziende che proporranno nel territorio i loro stand e le loro opere. Quindi noi stiamo molto orgogliosi che sia stata scelta Sassari per questo evento. Adesso dal nord al sud della Sardegna per parlare di un evento che coniuga turismo e sport stiamo parlando del Kia Sport Week. Ci sono due certezze, la bellezza di un luogo del sud della Sardegna e la passione. Passione per la corsa, il nuoto, la bici, per lo sport che spose e abbraccia l'unicità dell'isola, la nostra. E allora ecco il Kia Swim Sardina 2023 è un festival, un evento di forte impatto agonistico e turistico. La rima è voluta e ci sta pure bene. Anche perché? Il 2022 è un buon anno, abbiamo avuto 1500 presenze nella mezza maratona e abbiamo avuto 500 presenze nel triathlon. Quest'anno ci rilanciamo con la speranza e abbiamo già dei numeri già molto importanti di superare i 2000 di nuovo nella corsa e di arrivare oltre 600 nel triathlon. Un cartellone curato nei minimi dettagli da Follow the Passion e tanti altri attori, tutti i protagonisti di questo appuntamento di grande qualità. Tre gare e altre tante distanze, 1.9, 3.8 e 5 km, una roadmap e test per tutti quelli che si butteranno nella disciplina faticosa e straordinaria del triathlon. E ancora nuovo giorno, nuova corsa con la Kia 21 Half Marathon, la mezza maratona che piace agli appassionati della corsa. Anche qui tre le distanze, la 21 km, la 10 e la 5. Infine, che fine e che finale? La Kia Sardinia 3, nuoto, bici e corsa e le tre categorie. Sprint, 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa. Poi quello olimpico, 1.5 km di nuoto, 40 km di bici, lungo la costa meridionale, un percorso di 10 km di corsa che si snoda tra il resort di Kia Laguna e le spiagge di Kia. E infine le altre categorie, medio relay, insomma la festa di sport e turismo o viceversa, è servita. Anche perché? La sfida che abbiamo accettato, l'abbiamo proposta anche nelle fiere più importanti, dove si svolgevano le maratone più importanti, sia in Europa che nel mondo, quelle che fanno i due nomi, Berlino e New York. Il nostro stand era montato lì con le bellissime spiagge di Kia, la gente passava, si fermava, chiedeva dove va la gara e nel frattempo promuovamo il territorio alla Sardegna. E poi quell'aneddoto, magari un finlandese, uno svedese, un giapponese arriva per la prima volta con la passione dello sport di correre, di andare in bici e scopre la meraviglia del sud di Sardegna. Assolutamente sì, e un nostro testimonio molto importante nel 2017 è stato Jean Frodeno, che è l'attuale primo artista mondiale dei Ironman, che è venuto a fare la nostra gara e ha detto che era uno dei paesaggi più belli che lui abbia mai visto e abbia mai partecipato a una gara del genere. Che evento sia allora! In una delle mete turistiche più belle d'Italia, il Kia Laguna Resort, che sarà il centro nevralgico di tutte le attività pre, durante e post gara. È tutto, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera e vi rinnovo l'invito a seguire le altre edizioni. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!